e lo fletce che spettacolo bravissimo Souten parto in tiro ancora in gioco i giocatori si avventano sulla palla vagante passaggio a bocchi grande la sua azione tiro grande opportunità controllare Gerard Sissoko Johnson attenzione solo e del gol palla in rete filo di precisione sul quale il portiere non ha potuto nulla ci vogliono dei piedi come i suoi per fare queste cose Fabio ottima palla il Liverpool con una manovra d'attacco Gerard prova sciupa malamico Gerard entra in tackle Michel Bastos attenzione solo e il pallone entra in rete e con questa sono due le reti di questo giocatore si è fatto tutto il campo seminando avversari come Virilli Pato e Bue pericolo Liverpool attenzione gol implacabile oggi sì ogni palla che tocca è un gol cross dal fondo attenzione solo hanno segnato non è che faccia molta differenza ormai e sinceramente non mi aspettavo che sarebbero riusciti a segnare questo gol in effetti sembravano Agbola Ho si soccorre scarga sul compagno fa il tentino e non sembrerebbero ancora paghi dei risultati riconquista il possesso palla con un contrasto in posizione defilata Agbola Ho attenzione solo gol palla in rete quello del portiere ha un ruolo crudele se sei fuori forma rischi di mettere in crisi tutta la squadra oggi